Grazie a tutti No, calmato ragazzi Grazie a tutti No, calmato ragazzi No, calmato ragazzi No, calmato ragazzi No, calmato ragazzi Io sono sempre in cerca delle MCAM In questo livello ne ho trovate solo 2 su 4 No, calmato ragazzi 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 Ok Ok No, calmato ragazzi 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 Non, calmato ragazzi No, calmato ragazzi No, calmato ragazzi Cosa 3 headshot? C'era un piccolo bug Uno perchè non mi ha ucciso E due perchè 3 headshot mi sembra eccessivo In particolare il suo golpe Non è andato di bella ragazzi Ma cosa? Stanno fuggendo? Si, gli conviene No, brutto segno, molto brutto Sentito Mortali, al riparo Proviene dalla collina, muoversi, muoversi L'unica è davanti, qui davanti, andiamo Pronti Via! Via! Via quel tipo col portaio, gli spacco il culo! Via, via, via! 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 Via, via, 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 via! Alcuna altra? Alcuna altra? Alcuna altra? Siamo arrivati. Guardi in su! Ok, non sono regolenti. La nata! All'impero! All'impero! Dobbiamo ricaricare! Spacciate! Arrivano 50! Giù la testa, giù la testa! Scopo! Arrivano 50! Scopo! 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 Uuh sigo... Scopo! 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 Noi, noi, noi. Noi, noi, noi. Noi, noi, noi. Noi, noi, noi. Noi, noi. Noi, noi, noi. 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.